ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi sono veramente, veramente, veramente contenta perché abbiamo un nuovo fratellino nel canale un nuovo duellino che è il fratello maggiore del Tascam TR-05 sto parlando di lui il Tascam TR-40 ho sempre amato l'audio del Tascam TR-40 trovo che saltino tantissimo i mouth sounds sentite? trovo che siano adattissimi per l'in-audio un po' di bollicoseggiare e oggi voglio fare un video veramente semplice facciamo un po' la prova di questo microfono con un giorno molto dolce per cercare di esaltare anche più possibile le sue caratteristiche proveremo appunto i suoni e vedrete voi quali rannone più con questo il quale è un po' di bollicose ho qui con me un po' di oggetti però sapete che è la prima cosa che mi piace fare quando fai un mano a un microfono è è farci del tapping tapping, tapping sopra il cuore il cuore Grazie a tutti. Sicuramente il tipo di audio è molto 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 simile al Tascam di R05 ma dovrebbe essere un po' più pulito. Inoltre questo microfono ha anche due uscite qui sotto quindi può essere attaccato ai Rode per esempio come lo Zoom H5. Molto presto. Molto presto. Molto presto. Allora il video di compro di tutti i microfono che mi aspettavo a farlo almeno finché il mio italiano sta veramente peggiorando. Ho aspettato a farlo finché non avessi potuto almeno comprare questo microfono. Bello. Allora vorrei comprare anche un altro con le orecchie perché quello che adesso è un po' rotto o meno un orecchio per questo non lo sto usando. Anche se vorrei tantissimo fare un nuovo play visitare le orecchie così mi spiace un sacco. Allora voglio fare un po' rotto orecchie così mi spiace un po' rotto orecchie così mi spiace un po' rotto orecchie così mi spiace un po' rotto. Allora voglio sentire l'esperienza e come rendono i diversi trigger con i diversi microfoni. Proviamo adesso però un po' di tool clicking perché secondo me con questo microfono rende ok. Proviamo l'alto più magari. Corso po' di paperne. Passiamo po' qui mi spiace un po' di preferenza. Allora voglio sentire il boccione e lasala tiketà un po' rotto. E allora catasto per Torniamo di farlo il più delicato possibile in ogni caso se questo video durerà un po' poco ma perchè non mi so se cosa è ricarica faranno anche la fotografica che sta morendo è una batteria che andrà ampeggiando un po' di rosso quindi spero duri almeno un quarto d'ora spero anche sei sette minuti di scaturare e a perdere effettivamente altri trigger adesso ne faccio un altro giusto per allora ho quei altri trigger che non portavano un po' trigger un po' natalisti a proposito a proposito a proposito se volete datemi delle idee per i video di natale vorrei fare due o tre speciali quest'anno e non so mi piacerebbe che voi mi deste le vostre idee in modo che io vorrei rilavorir perchè le rilavoro sempre però mi piaceva davvero tanto si fare un po' di video speciali però speciali speciali davvero magari uno classico o due classici o un diverso come il top secondo me anche il top in grande modo questo è un po' di video 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 mi commenterete sicuramente questo minuto perchè mi sono un attimo distraffata di stare la suona a volte vedete che mi perdo perchè mi rilassa tanto il suono un po' di video per il video ho l'altro il suo video vedete un video grazie a tutti 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 un nuovo mail che vi ho comprato che alla fine vi ho mostrato su Instagram dove mi trovate come ripetiamo tutti insieme chiara.smr ripetiamo ancora chiara.smr in quel video che è un burro cacao dell'arche milla al gusto nocciotella sono le addolci labbra dell'arche milla cioè il profumo non vi dico non mi ricordo quanto costa peso di 5 euro quindi medio quindi medio però ha la cosi senza che piace a me quindi vedete che non mi rende le labbra lucide però lei tratta bene fa un tipo una specie di leggerissimo film protettivo questo però non è troppo duro da formare dei crumetti da spezzare perché mi sono capitati anche quelli purtroppo è completamente naturale e cercavo anche un burro cacao così perché ho pesato un momento tutti i giorni sulle labbra praticamente lo mangio lo voglio almeno naturale e poi questo è ecologico a me vegano e soprattutto ed è stato per i metalli pesanti e questo è un'altra cosa che mi tenevo tanto 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 perché appunto essendo un prodotto che metto sulle labbra addirittura io fondamentalmente me lo mangio per me è importante e quindi sto comprando anche le capelli e le alles cream care in modo un po' più cosciente adesso voglio cominciare a comprare in modo un po' più cosciente su instagram mi avete consigliato anche altri gusti di queste dolci labbra perché mi avete detto che sono tutti buonissimi che penso che nessuno batterà mai non c'è bello adoro come ne vedo destra o sinistra mi piace come ne vedo destra o sinistra mi piace ok ecco qua ecco qua io spero davvero questo mi viene rilassato insomma l'agentina fa il berlo, molto bezzato mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto mi è piaciuto il video perchè riesco veramente a capire quanto piace sia nei commenti sia dal numero di mi piace mi piace il video sono i motivi di bui so che dovrei chiedere il video però mi piace troppo, 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 troppo troppo l'audio e quindi stare qui per ora mi succede ogni volta che compro un microfono nuovo però, infatti e ora e penso si aggiunga l'ora a te abbassare l'equip e augurarvi una buonanotte 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 se te VIP se te se te se te per rosa strusas no buono 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 buonanotte, buonanotte pasticcini mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questo microfono è molto molto importante buonanotte, tanto d'oro riposatemi al meglio e siate super 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 carichi il giorno dopo un bacione buonanotte pasticcini buonanotte pigli alacrima che li spera buonanotte buonanotte buonanotte